Vita Nuova torna ad occuparsi con due pagine di approfondimenti del problema della strage dei cristiani nel mondo, partendo da un'intervista a Marco Gombacci, il giornalista triestino, che ha riportato quel dramma all'attenzione dei lettori del settimanale diocesano. Questa settimana l'editoriale di Don Paolo Rachic cede il posto ad un testo, vergato dai direttori dei periodici che aderiscono alla Federazione Nazionale Stampa Cattolica, in difesa delle testate diocesane minacciate seriamente da un emendamento alla legge di bilancio. Nelle pagine interne di Vita Nuova si trovano la lettera dell'Arcivescovo ai bambini in occasione di San Nicolò e un resoconto della visita di Monsignor Crepaldi alla parrocchia di Santa Caterina da Siena, laddove il messaggio natalizio del nostro presule quest'anno è incentrato sulla Cresima. C'è spazio anche per la storia del breviario di Don Francesco Bonifacio, reliquia scomparsa e ritrovata, e per annunciare i concerti spirituali dell'avvento nella chiesa di Sant'Antonio Vecchio, mentre continua con l'episodio del vitello d'oro l'analisi curata da Monsignor Mallati dei personaggi biblici Mosè nella fattispecie. Le pagine di Economia e Società si concentrano sulle tematiche dedicate alla famiglia, anche alla luce di una circolare del Miur che dà ragione alle famiglie stoppando la propaganda gender nelle scuole e raccontano anche i progetti per gli anziani curati da Televita. Le pagine di Cultura e Spettacoli, al solito molto ricche, chiudono il giornale con una riflessione sui due avventi di Cristo nella storia dell'umanità. Vita nuova si può acquistare anche nelle parrocchie e in questi giorni è partita la campagna abbonamenti per il 2019.